ingresso in campo anche per l'accademia calcio roma e orbetevere allora l'accademia che si gioca la possibilità al quarto il quinto e sesto posto nel mini girone insieme all'orbetevere la roma non il trigoria come precedentemente detto da me nella precedente partita commentata da orbete avere roma accademia calcio roma che ha già giocato contro la roma del girone precedente giocherà adesso con urbe tevere e poi con la roma rischia l'arbitro allora comincia a calcio roma contro urbe tevere prima possibilità per l'accademia con il pallone che arriva al limite dell'area possibilità per calciare ancora l'accademia che insiste ottimo la chiusura sul primo palo allora l'orbe tevere va in avanti con il tiro d'esterno con la conclusione provata paimi termina larga altra parte c'è l'accademia che va col mancino che sblocca l'incontro al quinto minuto l'accademia calcio roma passa 1-0 si se l'urbe che va alla conclusione ancora stella gran parata il portiere dell'accademia palla che arriva sul secondo palo allora è doppietta si è visto bene e 2-0 per l'accademia calcio roma lo siamo all'ottavo minuto palla che scorre sul secondo palo bello il sombero è il sinistro al volo è un gol meraviglioso come un giocatore dell'accademia calcio roma gol del 3-0 splendido davvero insiste ancora l'accademia che trova il quarto gol della sua partita 4-0 l'arbitro fischia la fine sull'azione seguente al gol del 4-0 accademia calcio roma 4 urbe tevere 0